Grazie a tutti. Il giudizio che è annunciato nel capitolo 18 e la prima metà del 19 si concretizza, si realizza. Come? Qui c'è il titolo dato dalla nostra traduzione, la distruzione delle nazioni pagane, da si perdere. È il compimento del giudizio di Dio, non più solo annunciato, ma si compie, si realizza, si concretizza. Questo compimento si è descritto attraverso quattro quadri. La prima battaglia finale, il regno millenario di Cristo. La seconda battaglia finale, il giudizio definitivo. La condanna definitiva, che riguarda il drago. La prima battaglia finale è descritta attraverso un susseguirsi di tre visioni, introdotte dal verbo vedere ripetuto tre volte, poi vidi, poi vidi, poi vidi. Al versetto 11, al versetto 17, al versetto 19. Avviamo il discorso, poi lo riprenderemo giovedì prossimo, a Dio piacendo. Si presentano i due protagonisti della grande battaglia. Nella prima visione si presenta il primo protagonista, quello positivo, diremmo noi oggi. Nella terza visione si presenta il secondo, quello contrapposto, il drago. Al centro c'è un annuncio, nella visione centrale. Presentiamo il primo protagonista. Poi nel cielo aperto, vidi un cavallo bianco. Chi si ricorda quando abbiamo già visto il cavallo bianco? All'inizio. In quale momento? In quale momento dell'Apocalisse? Capitolo 6, di cosa si parla? Bravo. Il pri? Bravo. Cioè, quando l'agnello prende in mano il libro, il rotolo sigillato dei sette sigilli, e comincia a rompere i vari sigilli, cioè quelle realtà che rendono incomprensibile l'azione di Dio, la prima, il primo sigillo che salta, la prima realtà che identifica, è il cavallo bianco. Con un cavaliere vestito di bianco anche lui. Chi rappresenta? Chi è? Ma si è sicuro? Sicuro, sicuro, sicuro? Anche voi? Chi è? Oh, Dio, alto, us! È lui! Ma vi ricordate la domanda? Come è possibile questo? Che la prima realtà, la prima ne è, che ci impedisce di capire in che modo Dio è presente e salva la Gesù Cristo. Come è possibile? È lui che è salvo? È per mezzo di lui che Dio salva? Come può essere lui, lui, il primo problema? Perché nessuno l'ha creduto. Nessuno l'ha creduto? Per chi scrive Giovanni? Per i romani? Per i pagani? O ai cristiani? A chi lo dice che il primo sigillo è il cavallo bianco? Ah, l'ha acceso! E quindi? Chi è che fa fatica a credere? L'ha acceso! È la nostra poca fede, è la nostra difficoltà a credere che fa diventare lui stesso il problema. Perché se non riusciamo a convincersi, a credere davvero che lui è colui che ha vinto e tornerà per vincere ancora, col cavolo che daremo valore e importanza e credibilità a tutto il resto. È il vero problema per l'oltre cristiane, fare che Cristo sia Cristo, che Dio sia Dio. Ma che è il problema che resta sempre? Facciamo pensarci bene. Non in teoria, per carità, in teoria è semplice, in pratica, nel concreto. Fare che Dio sia Dio è il vero problema. Fare che Cristo sia davvero Dio fatto uomo, cioè il Dio che salva, questo è il vero problema. Fidarsi davvero di Lui, affidarsi sul serio a Lui, è il vero o no che è un problema. Eh? Come sembra uno di fare la figura del stupido, del cretino, di perdere te, di perdere un'occasione, di svantaga? Ma a voi non succedono, eh? Io parlavo di me per la verità, però... Ma purtroppo, è vero o no? E pur credendocine, e pur credendocine, e facendo tante cose belle a livello di fede e a livello di vita cristiana, però resta sempre lo che critica dei buffi non font. E qui torna, l'aveva già annunciato nel capitolo 6, è riuscito vincitore, tornerà per vincere ancora. Questo è il momento. Colui che lo cavalca è chiamato. Non dice il suo nome, eh? Ma è chiamato. Ci sono due titoli. Fedele e verace. Fedele perché? Prima di tutto perché Lui stesso è la prova che Dio è fedele. Che Dio, il Padre, mantiene le promesse fatte attraverso i profeti. E fedele perché? Perché Lui è stato fedele davvero fino in fondo, fino a lasciarci la pelle. Quindi realizza le promesse e fa ciò che è venuto a fare, fino in fondo. E' verace perché ci ha annunciato la verità di Dio, ma soprattutto ci aiuta a riconoscere la nostra verità davanti a Dio. Che siamo davvero noi davanti a Dio. Sia nel positivo, che non siamo scarti ma siamo figli, sia nel negativo, che non sempre ci comportiamo da figli. E' vero o no? Ecco perché giudica e combatte con giustizia. Porta nel mondo la giustizia del Padre. Rende giusto chi non lo è. I suoi occhi brillano come il fuoco. Il Spirito Santo è pieno di spirito. Essendo sotto forma di lingue di fuoco. Come lingue di fuoco. Ha molti diademi sul capo e porta scritto un nome che egli solo conosce. E molti diademi dicono ciò che lui è diventato attraverso la sua Pasqua, la morte, la risurrezione e l'ascensione. Siede alla destra del Padre, cioè riconosciuto dal Padre come il Signore della storia, il Signore della creazione. Quindi Re dei Re. Ve l'ho detto anche dopo. Re dei Re, Signore dei Signori. E ha un nome che nessuno conosce. Perché? Niente, andiamo avanti. È vestito di un mantello, bagnato di sangue. Il suo nome è la parola di Dio. E' la parola di Dio. Non è il nome del cavaliere. È il nome del mantello. Il mantello bagnato di sangue si chiama parola di Dio. E cosa vuol dire questo? Che il mantello che indossa porta il sangue, il sangue di parola di Dio. Cosa vi ricorda? La Pasqua di Gesù? Dice, è rivestito della sua Pasqua. È tutto rivestito della sua Pasqua. E da chi si è rivelato il valore della Pasqua? Dalla parola di Dio. Il sangue è la Pasqua, la parola di Dio è lo strumento attraverso il quale noi possiamo coglierne il valore, il significato. E ha un nome che nessuno conosce, che soltanto lui conosce. Perché? Perché se noi lo conoscessimo, saremmo come lui. E questo ricorda molto da vicino Esodo 3. La rivelazione di Dio a Mosè. Voi sapete che il nome che Dio ci dà sul Sinai è Io sono. che in ebraico è la famosa quattro lettere I-H-U-H I-A-U-E O-I-E-U-A Ma forse, forse non vi ricordate, o forse ve lo mai dite, mi ricorda il mio, che prima di usare quella formula nell'Esodo, nel capitolo 3, Dio dice altre parole, altre tre paroline. E-I-E Asher E-I-E Io sono quello che sono. E poi, dopo andando avanti, dice Io, il Dio dei tuoi padri, sono chiamato così, come I-A-U-E. La parola I-A-U-E appare dopo. Le prime tre parole che dice, rispondendo alla domanda di Mosè, come ti chiami, qual è il tuo nome, è E-I-E Asher E-I-E che tradotto in italiano, vuol dire Tan frega chi a te ne sai chi so. Tan frega chi a te ne sai chi so. Questo vuol dire, sta alto a posto, bello. Sta alto a posto. Che è poi il primo significato di Yahweh. Io sono quel che sono. Non metterci il naso. Non è tuo compito metterci il naso in queste cose. Messo me, basta, chiuso. Questo è il significato. Perché? Perché, appunto, come dicevo, se noi potessimo conoscere questo nome, saremmo al suo livello. Saremmo Dio anche noi. E questo dice proprio la divinità di questo cavaliere. Un modo ebraico di dire la sua divinità. Saremmo Dio anche noi.